Indosso un occhiale particolare che poi in fin dei conti è un visore, quindi io, voi non potete vederlo, ma tridimensionalmente riesco a vedere lo schermo che mi sta accanto. Immagini in 3D, sensori posti sugli strumenti chirurgici, Smart Class, tutto è pronto nella sala operatoria dell'ospedale Israelitica a Roma per un'operazione chirurgica innovativa con l'uso della realtà aumentata. È la prima nel Lazio e una delle prime in Italia, un trapianto di protesi di spalla che è stato pianificato e può essere ora eseguito con estrema precisione. La pianificazione si fa attraverso una TAC e l'intervento di per sé non cambia nulla se non il fatto che appunto quella pianificazione te la riporta il computer tridimensionalmente. È la macchina che arricchisce la percezione sensoriale umana. I vantaggi sono quelli di essere sempre più accurati, quindi segui la pianificazione preoperatoria che tu hai fatto e il computer non ti fa fare errori rispetto a quello che tu hai pianificato. La medicina è uno dei luoghi in cui l'incontro tra il sapere dell'esperienza e le tecnologie è virtuoso. In prospettiva le protesi sono impiantate meglio, dovrebbero durare di più e avere risultati funzionali ancora migliori. L'uso della realtà aumentata può essere steso a tanti altri tipi di intervento, soprattutto quelli più complessi, e si può fare in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. È andato molto bene, tutto liscio e la paziente sarà sicuramente molto soddisfatta.